Dobbiamo uscire da questa idea che le aziende siano solo un bilancio di cartaceo oppure una visura camerale. Le aziende sono carne e sangue di chi ci lavora, quindi di imprenditori, di dipendenti, di tutto l'indotto, dei fornitori. Quindi è importante la prossimità del territorio e l'importante è che ci sia questo presidio in una città come la nostra, che è uno dei pilastri fondamentali dell'economia toscana. Arezzo rischia di perdere il tribunale fallimentare che potrebbe essere accorpato a Firenze con quello di Siena. Lo prevede una legge, la numero 155, approvata lo scorso 19 ottobre dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce una serie di norme alle quali il Governo dovrà dare attuazione per affrontare la riforma delle discipline della crisi d'impresa e gli stati di insolvenza. Sicuramente è un grosso danno a nostro parere perché si tratterebbe di portare tutte le procedure, quindi un imprenditore, un lavoratore che dovesse fare un'istruttoria prefallimentare o anche per un concordato preventivo si troverebbe sicuramente a interloquire con un soggetto a oltre 70 km di distanza. Ogni anno sono oltre 100 le procedure fallimentari seguite dal Tribunale di Arezzo. Una mole di lavoro importante è che il Tribunale di Arezzo, mi preme di sottolinearlo, gestisce con tempi medi che sono inferiori a quelli della media nazionale e crediamo che portare queste situazioni in un ambito già intasato, già diciamo saturo come quello fiorentino non possa che creare un disagio sia per i tempi, sia per i costi, sia anche per un maggior disinteresse che si può anche creare rispetto a chi invece in questa realtà ci vive quotidianamente. Voi avete fatto un appello anche alla politica. Esattamente, l'intento è che i candidati a queste prossime politiche possano prendere a cuore questo problema, capire l'importanza che il territorio ha nel mantenere questo presidio e che quindi nei loro impegni elettorali possano fare in modo che Arezzo mantenga la sua sezione fallimentare.